Andrea Tirinnanzi, direttore artistico della Galleria Firenze Art, inaugura giovedì 5 febbraio 2015 la mostra personale del maestro livornese Dino Pelagatti dal titolo Sinfonie Cromatiche. Insieme a me c'è Andrea e poi a seguire intervisteremo il maestro e poi altri personaggi che lo hanno seguito dalla sua Livorno. Oggi la Nazione ha dedicato addirittura una pagina intera a questo evento importante per la città di Firenze, evento al quale invitiamo i nostri telespedatori a partecipare fino alla messa in onda di questo servizio e fino al prossimo 5 marzo, quindi un mese, una mostra di lunga durata. Gli orari ce li ricorderà ora Andrea, sono i consueti orari d'apertura della Galleria. Sì, sono il 9.13, 15.30, 19.30. La mostra vi invito tutti a venire a visitarla perché mi sembra sia veramente bella. Poi ci sarà la possibilità di vedere questa galleria, anche se era già di recente. Noi spesso facciamo delle modifiche, ci aggiorniamo un po' in attempio e quindi c'è un rinnovamento. Benché fosse di recente apertura è stata completamente ristrutturata, soprattutto dal punto di vista della leggibilità delle opere che con questo tipo di illuminazione sono veramente... Sì, è un'illuminazione in arte povera ma insomma fa il suo risultato. Ben illuminate e appunto di fruibilità totale da parte dei visitatori. Penso per questo. Allora ricordiamo ancora una volta ai nostri telespedatori l'indirizzo della galleria, ci troviamo a ridosso del Ponte alla Vittoria, vicinissimo alla conosciutissima trattoria della Vittoria. Della trattoria Vittoria, siamo in via della Fonderia 42 Rosso, a due passi dal Ponte Vecchio. E per chi transiterà in via della Fonderia venendo da Rione di San Frediano, da Lungarno Soderini, troverà ad accoglierli le sagome di Carlo Conti, di Leonardo Pieraccioni e di Panariello. Sì, quelle ormai ho fatto da tempo. Le dici sculture. Le dici sculture, esatto. Sono qui per un motivo perché questa trattoria La Vittoria è il loro punto d'incontro quando si trovano qui a Firenze e quindi prima di entrare a degustare il pesce celeberrimo della trattoria si soffermano qua a vedere i quadri perché tutti e tre sono appassionati di arte. Sì, penso proprio che sì. Come pensi, è la verità, sono appassionati. Allora, ora si lascia la parola a Niccolò che è lui che vi accoglierà, naturalmente alla Vanessa perché sono quelli che qui... Allora, Vanessa ci deve raggiungere. Perché fanno la sua parte qui dentro la calderia. Benissimo, allora dovete essere voi a invitare i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra e suggerirli uno dei motivi per chi non ha avuto modo di conoscere fino ad oggi il maestro, per cui sarà un obbligo, fra virgolette, venire prima della scadenza a visitare questa bella mostra personale. Innanzitutto vorrei ringraziare la Galleria Atena che ci ha dato un grande aiuto per organizzare questa mostra. Per quanto riguarda la nostra galleria, ci siamo sentiti in dovere di ospitare la personale di un maestro, quale il maestro Pelagatti, che con la sua luminosità nei suoi ripinti rallegra le giornate in questi periodi così bui, quali ci sono ad oggi. E questo è uno dei tanti motivi per cui visitare la mostra di un maestro che raffresca la pittura, possiamo dire così. Trasmetto una grande gioia di vivere, una grande energia, una grande forza cromatica, si sprigiona dai suoi quadri, ma di questo ovviamente ne parleremo col maestro che ci sta aspettando in un altro angolo della galleria. Marcello Pierleoni rappresenta la Galleria Atena, è stato evocato poco fa da Niccolò e grazie alla sinergia fra la Firenze Arte e l'Atena è stato possibile portare a Firenze un maestro dell'importanza di Dino Pelagatti, che è un vanto per la città di Livorno perché opera nel solco della tradizione, però con un'innovazione del tutto personale. Sicuramente riesce con un suo trattico caratteristico a portare un'innovazione in un ambiente molto tradizionale come quello della pittura labronica, contribuendo con le sue figure e il movimento a rinnovare quella che è la tradizione della pittura. Anche se è rimasto fedele ai temi della vetta di Livorno, qui ne abbiamo un esempio. Sì, usa lo scenario della città come una quinta, dove poi anima con i suoi personaggi caratteristiche, con queste figure in movimento, con questi cappelli, con queste gonne che svolazzano nel vento, anima una città. Infatti qua si può ammirare Venezia come Livorno, come la chiesa di San Jacopo, insomma, tutti gli angoli di Livorno e non solo. E poi si possono anche ammirare non solo figure in movimento, ma anche delle composizioni floreali o delle bellissime marine con delle barche in movimento, che comunque è sempre presente in tutti i suoi dipinti. Maestro, allora stamani in un'intervista alla Nazione? Sono molto emozionato, perché non sono abituato a queste presentazioni. Comunque quello che dice Marcello dice una grossa verità, perché io ho cercato e cerco tuttora, nonostante l'età avanzata, e cerco tuttora di portare avanti un discorso che ha le basi sulla storia livornese, sui pittori labronici, tutto, però ho la volontà, con il fatto di dover portare un pochino di nuovo, sia come colorazione, che come soggetti, tant'è vero che io, come dicevo alla signora là, ho fatto nel periodo che le mamme scoprivano che c'era la droga di mezzo, ho cercato di fare che qui non ci sono, ma ho fatto dei quadri sulla droga, queste mamme che piangevano, che avevano scoperto che i figli si drogavano. Quando c'è stata la ricostruzione, il cinquantesimo anniversario della costruzione della Scala di Milano, io ho cercato di fare alcuni dipinti che parlavano di orchestre, di teatri. Quando c'è stato il riappacificamento della città di Livorno al Carnevale, io ho cercato di fare anche il Carnevale, insomma ho fatto un po' di tutto. Quando ho avuto all'inizio... Possiamo dire, maestro, che lei ha inserito la contemporaneità nei quadri della tradizione. I quadri della tradizione, certamente, lei trova meglio di me le parole giuste. Lei sa trovare i colori molto meglio di me, io la invidio però per questo. Lei si ha definito stamani in un'intervista rilasciata alla Nazione, ha detto per anni ho dipinto la solitudine, poi ho cambiato registro e ho inserito tanti personaggi che prima non c'erano nei miei quadri. Questo sembra più avere attinto però agli impressionisti francesi che ha i macchiaioli a posto. Ma io non l'ho nemmeno visti, gli impressionisti francesi. Io ho cercato di studiare il movimento delle persone nelle persone, diciamo. Attraverso le persone ha voluto conferire dinamicità al quadro, movimento. Sono dei dipinti molto vecchi, uno per esempio è un passaggio pedonale dove la gente talvolta attraversa fregandosene di quello che con la macchina è talipia. Io ho colto anche questi movimenti, queste cose per fare dei dipinti, questo è all'inizio. Poi naturalmente mi sono messo a studiare il movimento, che a fare la figura è una cosa che si fa, lo fanno tutti. Però il movimento è una cosa che va cercata e io ho studiato un bel po' su questo fatto. Mi sembra che lei abbia studiato anche molto la luce perché da questi quadri, anche se ho detto prima, sono ottimamente illuminati dal sistema, l'impianto di illuminazione. Il sole, siccome io sono un appassionato di musica, come del resto anche Marcello, appassionato di musica e con la musica, quando si dipinge con la musica, ci piace di rappresentare il sole come... Non per nulla la mostra si intitola Sinfonie Cromatiche. Sinfonie Cromatiche, infatti è così e ho detto che il sole è la cosa prima... Il direttore d'orchestra che fa muovere. Il direttore d'orchestra, quindi ecco perché i quadri sono abbastanza chiari e luminosi. Allora maestro io la ringrazio e invito i nostri telespettatori a venire a visitare da oggi giovedì 5 febbraio 2015 fino al prossimo 5 marzo la mostra personale del maestro labronico Dino Pelagatti dal titolo Sinfonie Cromatiche. La mostra è ospitata all'interno della Firenze Art Gallery che si trova in via della Fonderia e in prossimità del ponte alla Vittoria. La mostra è ingresso libero e aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 13, giorni feriali ovviamente e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 e 30. La regia vi avrà proposto nelle immagini che avete visto fino a questo momento anche l'importante catalogo che sarà possibile consultare, visionare ma anche ovviamente appropriarsene e portarselo nella propria abitazione che accompagna la mostra. Quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questo sia uno degli eventi più importanti a livello di esposizione d'arte del mese che ci separa da oggi fino al prossimo 5 marzo. Grazie a tutti.